La cultura è la migliore arma per vincere. Il Colosseo non è una delle cinque meraviglie del mondo. Cosa accade alle edi di marzo? Alle edi di marzo? A marzo il mese. Cosa accade a marzo? Puppe, secchioni e viceversa vi danno appuntamento a martedì alle 21.20 su Italia 1. Andiamo su quel signore di destra. Butta, ti assomiglia molto? Alino Bacchi.